un saluto a tutti i video ascoltatori di italia medievale oggi presentiamo un bellissimo volume appena pubblicato dal mulino dal titolo i magi e la stella viaggio a betlemme di antonio musarra che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite perché ci parli di questo viaggio a betlemme quindi come mia abitudine lascio subito a lui la parola perché ce lo raccolti prego antonio a te bene grazie maurizio grazie un saluto a tutti coloro che ci stanno guardando ma allora sì questo libro è un vero e proprio viaggio e devo dire che forse uno dei libri più difficili che mi sia capitato di scrivere per varie motivazioni certamente è un libro che centra l'attenzione su un angolo del mondo che da un anno in particolare ma da una settantina d'anni a questa parte è periodicamente al centro di un aspro conflitto parliamo di betlemme parliamo di una città che è sì all'interno del nostro immaginario ma che è anche una città concreta è una città che fa parte dell'immaginario cristiano che cristiani e non cristiani diciamo celebrano ogni natale ma che poi ha un volto molto concreto bene io ho cominciato a scrivere questo libro prima del conflitto attuale dell'ultimo conflitto conseguito a seguito del 7 ottobre del 2023 anche se lo avevo nel cassetto da molto tempo da quando visitai per la prima volta betlemme nel 2019 mi trovavo allora a gerusalemme per un incontro un convegno e una serie di iniziative legate alle celebrazioni relative all'ottocentenario dello storico incontro tra francesco d'assisi e il sultano al malik al kamil tenne alcune conferenze a gerusalemme dopodiché mi spostai per qualche tempo a betlemme e già lì l'idea di scrivere un libro su betlemme si era un ricordo benissimo palesata e di modo di sostare per diverso tempo di visitare i dintorni concentrando il libro su che cosa beh in particolar modo su questo scontro per così dire tra immaginario e realtà è un tema su cui sto lavorando ormai da parecchio tempo l'ho fatto per altri contesti ed è un po forse il tema che al momento mi affascina maggiormente un mio libro recente parlava per l'appunto di isole immaginarie collocate nell'atlantico e del loro ruolo nell'aver pilotato in certo qual modo la esplorazione dell'atlantico stesso diciamo che il tema è grosso modo il medesimo ci troviamo come dicevo prima di fronte a una città immaginata ricostruita su ogni presepe in ogni presepe del mondo cristiano per chi ancora fa il presepe naturalmente e all'interno delle chiese di tutta la cattolicità nota perché mitizzata anche in altri contesti culturali non necessariamente cristiani con riferimenti frequenti alla sua caratteristica di aver ospitato per così dire una delle storie più belle del mondo quella della natività e questo anche in un contesto non confessionale naturalmente e però questa immagine idealizzata di betlemme fatta di abeti di neve e grotte e pastori e pecore non corrisponde naturalmente al cento per cento alla realtà dei fatti che è molto molto diversa che è molto diversa e io abbia contezza di questa discrasia effettivamente visitando betlemme sostandovi girando la pietra per pietra strada per strada osservando visitando i dintorni perdendomi nei dedoli delle sue viuzze tematizzando appunto questo problema sicché per l'appunto presi allora la decisione di approfondire la sua storia e in particolare la sua storia medievale che senso nel senso che noi tutti conosciamo effettivamente betlemme per l'evento che sta al centro del cristianesimo e quindi l'incarnazione da un lato a nazareth e poi la nascita per l'appunto betlemita che ci viene raccontata dai cosiddetti vangeli dell'infanzia a matteo e luca oltre che da una serie di apocrifi però effettivamente noi non sappiamo molto di betlemme nei secoli posteriori quindi da quell'idea iniziale quell'idea di sondare il rapporto tra immaginario e realtà scaturì una seconda idea quella di comprendere che cosa ne fu di questa di questo piccolo capoluogo di giuda per citare le parole evangeliche nei secoli successivi e ho scoperto un mondo ho scoperto delle vicende di estremo interesse che attraversano tutto il medioevo e che spiegano come si sia arrivati progressivamente a costruire attorno a betlemme tutto un complesso di tradizioni leggende immaginari che sono giunti direttamente a noi questo complesso si forgia inevitabilmente nei secoli medievali che dunque vedono la città tornare a essere al centro non essere abbandonata diciamo così come ci si potrebbe aspettare se non che il nuovo conflitto betlemme era già stato al centro di della seconda intifada con il famoso assedio della basilica della natività i primi del 2000 ma quest'ultimo ennesimo conflitto mi ha interrotto questo io lo devo lo devo dire a chi ci sta ascoltando da quello che doveva essere un libro di storia rigoroso capace di appunto ricostruire la betlemme medievale è venuto fuori qualcosa di diverso perché obiettivamente non me la sono sentita di continuare diciamo così in maniera settica a raccontare una vicenda distante molto distante anche se sempre ancorata al presente ed è questo che distingue lo storico dall'antiquario avrebbe detto mark bloc l'avrebbe detto anche in clipi renna in certo quel modo ma con la situazione attuale dovendo concludere il volume per mandarlo in stampa io ho deciso di troncarlo fondamentalmente di trasformarlo in qualcosa di diverso in un vero e proprio diario di viaggio e dunque non è prettamente immagina stella un libro di storia è il racconto di un viaggio ed è questo anche il motivo del titolo di questo volume è un viaggio che come immagini avevano intrapreso duemila anni fa verità o leggenda questo è un altro discorso ne discuto nel volume naturalmente ma un altro discorso in questo libro ho riversato innanzitutto il mio viaggio ho raccontato quello che ho visto ho raccontato i rapporti stretti con alcuni docenti dell'università di betlemme ho raccontato i rapporti stretti con i frati della custodia di terra santa che mi hanno accolto e mi hanno permesso di sostare a betlemme di visitare anche luoghi generalmente non aperti al turismo di massa che non c'è più oggi fondamentalmente col conflitto in corso di conoscere una realtà estremamente complessa difficile in cui la presenza cristiana si è ormai ridotta ai minimi termini dei suoi 30 mila circa abitanti attualmente le stime viaggiano sicuramente sotto il 40 per cento qualcuno scende al 20 per cento altre addirittura al 10 per cento io mi sono tenuto sulla stima ufficiale alta che però di qualche anno fa ahimè è difficile quantificare la la popolazione popolazione che vive nel cosiddetto west bank che è soggetto a un occupazione da un lato israeliana dall'altro a una sorta di codominio a seconda dell'area in cui questo territorio è diviso area a area b o area c l'area corrisponde per l'appunto alle città palestinesi che hanno una propria libertà di di governo a differenza delle altre due aree ma che subiscono una serie di limitazioni a livello di spostamento non sto dicendo nulla di di nuovo naturalmente è molto difficile entrare uscire da da gerusalemme da 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 betlemme e io stesso ne ho provato la le conseguenze spostandomi da gerusalemme a betlemme per con la fortuna di avere a fianco a me in macchina un frate francescano che conosce molto bene il territorio ed è molto conosciuto dal territorio nel territorio che mi ha favorito questo passaggio altrimenti se non si è in comitiva o in pullman turistici è piuttosto complesso superare i checkpoint che fanno il loro lavoro naturalmente cercano di mantenere ordine una situazione di estrema tensione però con tutte le conseguenze del caso anche negative negative nel limitazione invece della libertà che i palestinesi conoscono cristiani o musulmani non fa differenza loro si ritengono innanzitutto palestinesi e per fortuna vi sono molte realtà israelo palestinesi a me piace definire quella regione ormai in questa maniera perché immagino un futuro di pace che invece collaborano ampliamente cercano di trovare le ragioni per una convivenza comune e questo bisogna comunque dirlo dunque una situazione molto pesante che nel 2019 non si avvertiva devo certificarlo ma se non in alcuni diciamo episodi che mi sono stati raccontati ma che certamente si è nuovamente aggravata e chiaramente auspichiamo tutti la risoluzione del conflitto e un un nuovo inizio diciamo per quella terra facendo menda ciascuna delle parti degli errori ahimè atroci spesso commessi allora questa situazione mi ha bloccato fondamentalmente non ho più portato avanti il progetto della redazione di un libro asettico per così dire ma ho voluto in realtà raccontare la mia esperienza che ha qualcosa che ha un duplice volto se vogliamo la mia esperienza chiaramente ha reso il libro un racconto in certo qual modo al cui interno però sono compresi diversi brani della prima stesura che sono perfettamente inquadrabili in un testo di carattere storico con tanto di note e via dicendo la seconda valenza è data dal fatto però che procedendo in questa maniera mi sono reso conto verso la fine di aver riversato nel volume anche il mio modo di fare storia mettendo il lettore in grado di seguire i miei ragionamenti non è un caso se abbia voluto inserire nella introduzione una frase di mark bloc tratta da la nostra guida la nostra bibbia vorrei dire l'apologia della storia che racconta proprio questo elemento lo spettacolo della ricerca con i suoi successi e le sue traversie raramente annoia è il belle fatto che diffonde il gelo e la noia ebbene non sarà forse uno spettacolo diciamo la mia ricerca rispetto a quella di mark bloc però in un certo qual modo c'è una buona dose di teatralizzazione se vogliamo o comunque di comprensione di quelli che sono stati i miei passaggi alla scoperta di betlemme e questo aspetto è emerso in maniera del tutto inconsapevole possiamo dire e allora di cosa parla questo libro dopo questa ampia lunga premessa chiaramente l'inizio è un libro che procede in maniera cronologica l'inizio è certamente dedicato all'evento che ha mutato il volto di questa piccola cittadina a soli dieci chilometri da gerusalemme non poteva essere altrimenti in certo qual modo sarebbe stato difficile comprendere il sorgere delle tradizioni nel corso del medioevo senza guardare a quell'evento iniziale e però anche lì bisogna risalire più indietro nel tempo per comprendere la nascita di gesù a betlemme e il dettato dei testi evangelici che ne trattano che è l'argomento del capitolo secondo del capitolo terzo bisogna capire che ruolo avesse allora betlemme nell'immaginario giudaico e allora sono risalito all'antico testamento i primi due capitoli dunque sono dedicati oltre che all'introduzione al mio viaggio proprio alla definizione di un profilo di betlemme prima di cristo e effettivamente betlemme come città di david città in cui david riceve l'unzione da parte di samuele e si appresta appunto guadagnare la corona regale ha un suo ruolo ben definito quindi all'interno del dell'ebraismo betlemme è importante chiaro la nuova città di david diventerà gerusalemme a seguito della conquista davidica ai danni dei gebusei ma rimane la memoria di david anche se non materialmente eccetto che per un sito che viene definito per l'appunto i pozzi di david si trova sulla via che porta la basilica della natività ma che in realtà ha un'altra origine probabilmente una cisterna romana poi adattata a monastero poi a cimitero e così via però il punto di partenza chiaramente è quello la figura di rachele una delle matriarche del popolo ebraico la cui tomba si trova nei pressi di betlemme a cui si può accedere attraverso il muro di separazione che ritaglia esattamente il territorio di questo santuario e lì si trova il confine diciamo diciamo così insomma si parte dalla gerusalemme betlemme giudaica per poi spiegare meglio in certo qual modo il dettato dei testi evangelici in cui io non taccio nulla non taccio nemmeno le difficoltà a riconoscere effettivamente betlemme come luogo di nascita di gesù chiaro noi siamo abituati a questo dato che è un dato tradizionale ma bisogna sapere senza scandalizzarsi che la storiografia la cristianistica ha messo in dubbio sovente questo dato vi è stato chi ha proposto come luogo di nascita di gesù un'altra betlemme situata in galilea c'è un'altra cittadina che si chiama in questa maniera chi invece ha propenso per la stessa nazareth rileggendo gli stessi testi evangelici mettendo in dubbio le date fornite il censimento imperiale della provincia e così via chiaramente io non esprimo in un'opinione nel merito che non è non è prettamente la mia materia ma chiaramente non potevo naturalmente però non ritornare su questo elemento quel che è certo che i primi scrittori cristiani a partire da giustino nel secondo secolo origine nel terzo e poi ovviamente l'età costantiniana in sé quindi il quarto secolo riconoscono betlemme di giuda per l'appunto quale luogo di nascita di gesù segnalando l'avvio di una sorta di visita che potremmo già definire in certo qual modo pellegrinaggio presso quella che viene definita una grotta non dunque una casa o una locanda come i termini greci evangelici possono fare intendere segnalando altresì la presenza in quella grotta lo fanno in maniera indiretta leggerete come di un culto precedente dedicato al dio adone tamuz adone adone è probabilmente derivazione da adonai signore siamo nel quadro di un processo di acculturazione che probabilmente vede l'attività romana nella regione esaugurare in certo qual modo i siti venerati dalla comunità potremmo chiamarla giudeo cristiana primitiva non tutti sono d'accordo su questa definizione inserendovi culti pagani ovvero siamo di fronte al al moto esattamente opposto cioè quello dell'appropriazione da parte della comunità cristiana di precedenti culti pagani non lo sappiamo anche questa è una questione aperta che lascio volentieri agli esperti del periodo diciamo che la mia visita entra nel vivo nel momento in cui nel quarto secolo costantino fa costruire sulla grotta riconosciuta come luogo di nascita di gesù una grande basilica e a questo punto inizia il racconto inizia il racconto della mia visita personale alla basilica all'interno del volume troverete anche delle fotografie che sono da me scattate non so se si riescono a vedere e che naturalmente cerca di esplorare da un lato tutti gli ambienti ne racconta la storia la vicenda tormentata cito solamente un paio di episodi la ricostruzione giustinianea che mette in dubbio a lungo a livello archeologico e storico la la datazione dell'attuale basilica della natività si è oscillati a lungo su costantino giustiniano a quanto pare sembra che la versione attuale corrisponda per l'appunto alle ricostruzioni giustinianea quindi la domanda su quale forma architettonica avesse la basilica originaria alcuni lacerti della quale particolare del pavimento sono ancora tutt'oggi visibili poi la visita alla grotta naturalmente nella penombra in cui ho potuto sostare a lungo studiando in particolare alcuni testi eccezionali che ci descrivono questo ambiente già nel quarto quinto secolo quarto secolo è ricco di pellegrinaggi come come sappiamo e quindi la descrizione precisa e puntuale dell'altare costruito sopra la grotta della stella che indicherebbe il luogo della nascita che ha anch'essa delle vicende eccezionali basti pensare che fu addirittura trafugata alla metà dell'ottocento da un monaco greco ortodosso e che è possibile riscontrare una sorta di legame addirittura con lo scoppio della guerra di crimea per cui io faccio frequenti digressioni anche nel nel presente o comunque nella storia più più recente perché quello è comunque un luogo che ha attraversato due millenni di storia la presenza di girolamo che crea il suo monastero vive probabilmente a lungo in una delle grotte adiacenti la si tradizionalmente se ne indica una come la cella di girolamo dove completa il suo lavoro di traduzione della della bibbia e tutto ciò chiaramente ci da il il quadro della costruzione della gerusalemme cristiana dopodiché si passa alla betlemme islamica noi sappiamo che betlemme fura un risparmiata dall'attacco persiano del 614 probabilmente dice un testo posteriore perché i persiani scorsero un mosaico raffigurante i re magi con fogge abiti iranici il berretto frigio allora immaginarono diciamo così un luogo da venerare o venerato da membri della religione zoroastriana è però una leggenda posteriore certamente a partire dal 637 38 gerusalemme scusate diventa islamica viene occupata dalle truppe del califo umar vi viene costruito un luogo di preghiera nella basilica naturalmente probabilmente la basilica viene sottoposta a un viene come dire utilizzata sia dai cristiani che dai musulmani una sorta di 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 codominio diciamo così che dura a lungo non è l'unico caso che conosciamo ci sono molti altri santuari generalmente dedicati alla vergine per l'appunto che è personaggio influente all'interno del testo coranico che dimostrano questo diciamo questa comunanza questa vicinanza di di uomini e in certo qual modo anche di riti e ne racconto dunque la vicenda in questi secoli che precedono la conquista crociata dopodiché appunto con la conquista crociata betlemme torna in mano cristiana ma torna in maniera del tutto particolare forse questo era stato il mio interesse uno dei miei molti interessi originari possiamo dire perché perché betlemme diventa il luogo dove sono eletti e consacrati i primi due re di gerusalemme i due baldovino e non è un fatto da tenere in disparte è un fatto importante che in certo qual modo ricorda altre situazioni in cui esistono città dedicate all'incoronazione città da cui si governa re in parigi per dire e insomma questo questo fatto apre effettivamente un mondo betlemme conquistata da tancredi il cugino di boimondo nel corso della prima crociata baldovino primo re di gerusalemme promuove la costruzione della diocesi mai era esistita una diocesi di betlemme questa diocesi viene a formarsi a seguito anzi nel mezzo dello scontro tra papato e impero non è infatti una diocesi dipendente dai papi romani urbano secondo pasquale secondo ma dipendente dal re nell'ambito di quella chiesa regale o reichskirche che sta combattendo il papato riformatore allora la domanda è come si inserisce betlemme in questo periodo specifico però che non dura molto perché come sappiamo il saladino alla fine del secolo riconquisterà questi territori però è una storia interessante una storia avvincente così come lo è altrettanto avvincente siamo ormai nel pieno medioevo come avete sentito seguire le vicende dei vescovi di betlemme che hanno grosse proprietà in occidente se ne occupò tra i primi il conterian uno degli animatori della società dell'oriente latino nell'ottocento e addirittura in liguria e che a un certo punto decidono di spostarsi in occidente viste le condizioni difficili dovute all'avanzata a iubide prima e mamelucca poi a questo punto la mia vicenda grossomodo si blocca proprio perché nel 1291 la terra santa latina viene a esaurirsi e inizia un'altra fase quella prettamente della costruzione del mito se vogliamo che in realtà una propria preistoria io in effetti nel nono capitolo risalgo a questa preistoria andando ad analizzare la famosa questione del 25 dicembre diciamo così e come nel corso del medioevo si affermi questa data piuttosto che quella del 6 gennaio come data liturgica per la celebrazione del natale ma a ciò si legano tutta una serie di episodi che non sono affatto secondari e che in certo qual modo vedono progressivamente betlemme spostarsi traslarsi nel mondo latino abbiamo santa maria maggiore a roma con la rappresentazione plastica fisica della grotta di betlemme abbiamo la betlemme di greccio di del nostro francesco d'assisi che naturalmente ha un ruolo importante se sono appena celebrati anche qui gli anniversari relativi al 1223 2023 e abbiamo ormai compreso di come francesco non avesse intenzione di riprodurre un presepe come solitamente si dice già che nella sua rappresentazione ma è un termine scorretto nella sua celebrazione mancava la sacra famiglia mancava anche il bambinello c'erano soltanto il bue e l'asino e sulla mangiatoia viene celebrato l'eucarestia allora che significato ha tutto questo è possibile che francesco abbia visto il modo di celebrare nella grotta in terra santa è una domanda naturalmente aperta c'è la leggenda dei magi che riguarda in particolare un contesto come quello milanese che ne conserva le reliquie sino a che queste non vengono trafugate dal barbarossa e recate a colonia ci sono i pellegrini con cui concludo il libro che dopo il 1291 nel corso del 3400 ritornano in terra santa e descrivono chiaramente betlemme qui e questa è una storia che ancora va scritta che ha enormi possibilità io mi sono limitato a riportare alcuni testi tra i più interessanti sia di pellegrini latini sia di pellegrini greci che vedono la betlemme mutare fra tre e quattrocento ma potenzialmente mai è stato fatto un lavoro sistematico per questi due secoli ci si è generalmente concentrati sui primi secoli dell'era cristiana trovate troverete tutte le informazioni bibliografiche nelle note nella bibliografia del volume per il 3400 la ricchezza dei testi di pellegrinaggio è tale da consentire effettivamente di tracciare un vero e proprio una vera e propria storia per così dire del pellegrinaggio a betlemme nel tardo medioevo io però mi fermo qui e nel licenziare per l'appunto questo libro non ho potuto che tornare nella parte finale come dire a tirare tirando le somme di questo intreccio per così dire così fitto che attraversa realmente tutto il medioevo tra immaginario e realtà al problema iniziale che per l'appunto è il problema di una terra che vede un concentrato di sacro veramente incredibile che vede ahimè tutt'oggi un odio che difficilmente potrà essere per così dire sedato o isolto in tempi brevi ma io spero che questo libro che non prende posizione chiaramente ma cerca di presentare in un kaleidoscopio di tematiche come piace a me diciamo così un volto per così dire diverso di una città possa essere in qualche maniera un veicolo per la conoscenza soprattutto per approfondire la conoscenza perché credo che non vi sia altro antidoto all'odio che conoscersi reciprocamente grazie è caro antonio si è una degna conclusione di tutto la narrazione che ci hai fatto e che auspichiamo tutti almeno tutti coloro che cercano di osservare questa situazione catastrofica con la luce della mente dell'intelletto della cultura dell'apertura e non della chiusura per cui io non posso far altro che invitare tutti ad acquistare questo volume di cui ricordo il titolo che è i magi e la stella viaggio a betlemme appena pubblicato dal mulino scritto da antonio musarra che abbiamo avuto il grandissimo piacere di avere il nostro ospite che ce l'ha narrato così bene e a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove trovate tutte le nostre video presentazioni grazie ancora antonio grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi